Nuovo appuntamento con Focus Periferie, ben ritrovati e bentornati qui su Milano All News. Quest'oggi, insieme a tutti gli ospiti che adesso andrò a presentarvi e insieme all'immancabile Walter Cherubini di Consulta Periferie Milano, siamo dove? Siamo nell'antico comune di Greco Milanese, nella sostanza nella parte nord-est di Milano, in quell'area che va diciamo lungo il Naviglio Martesana e che come abbiamo visto costella altri antichi comuni che sono Gorla, che sono Crescenzago, quindi una parte conservata da un certo punto di vista è che è stata appunto accorpata, aggregata a Milano il 14 dicembre del 1923, quindi 100 anni fa, divenendo quella che oggi chiamiamo la periferia milanese. Ebbene sì, infatti abbiamo detto vari nomi perché appunto Greco, Gorla, insomma una zona in cui tanti ex comuni furono appunto annessi nel 1923 a Milano. Qui con noi invece Marco Balsamo, degli amici appunto della Martesana Greco. Esatto. Buongiorno, buongiorno a te Marco. E Gianni Banfi, storico locale, non so che si teneva a dire locale perché? Perché veramente è una memoria storica di Greco e della storia di Greco. Nonché anche amico della Martesana. Perfetto. Ci siamo. E allora chiedo allo storico, come mai iniziamo la nostra puntata qui, su questo marciapiede, davanti a questa struttura? Perché questa struttura era la sede dell'antico comune, la sede del comune di Greco milanese che stava su un'area abbattuta dove hanno costruito la scuola che si stende lungo la via Bottelli che ha fatto sparire anche la vecchia scuola, la precedente scuola. E qui c'era la sede del comune che non possiamo più vedere, che è stata abbattuta e un'altra scuola che è stata appunto a sua volta diciamo inglobata all'interno di quella che poi è diventata. La scuola elementare perché aveva cinque classi è stata inglobata anche se non è più utilizzata nella nuova scuola che si chiama nuova scuola Rodari. Oh dai. Tanto per cambiare. Una via particolarmente importante perché poi c'è una targa speciale. Ma cos'è che dice la targa? Perché c'è questa targa Marco? La targa si rifà ai promessi sposi dove viene in pratica riportato che Renzo Tramaglino entrando a Milano da Monza passò da Greco milanese e dormì pure. E dormì. E dormì pure a Greco. E allora noi iniziamo qui un comune quello di Greco che insomma non era piccolissimo perché si estende molto in un zona ma si estendeva ad esempio anche dall'altra parte della ferrovia attuale. Arrivava fino a inglobare quella che adesso è Piazza Loretto sostanzialmente quindi non era piccolo. Al confine con il comune di Lambrata quindi. Al confine con il comune di Lambrata e di Milano sostanzialmente. Cosa ha cambiato in pratica l'aspetto urbanistico? La ferrovia. Nel momento in cui c'è stata la costruzione della ferrovia ha tagliato in due il territorio e il territorio da questo lato della ferrovia sostanzialmente era rimasto un territorio agricolo. mentre il territorio sulla destra della ferrovia quindi quello verso Viale Monza, Piazza Loretto l'attuale Nolo. L'attuale Nolo. L'attuale Nolo. E' sempre più diventato un punto dove andavano a insediarsi i nuovi residenti. Quindi proprio anche urbanisticamente sono diversi. Una testimonianza appunto che Greco non era solo da questa parte ma anche dall'altra parte lo ha il tramuno ad esempio. il tramuno c'è scritto che arriva capolinea Greco ma si ferma dall'altra parte del Milano è giusto? Si è giusto. Perfetto. Ah meno male se mi dice che è giusto lo storico io sono contento. Nel nome della vostra associazione c'è anche però Martesana che è fondamentale se si parla di questa zona giusto? Allora è fondamentale perché primo è un gioiello. Questo è un elemento fondamentale. ricordandosi che siamo in una città densa, molto densa dal punto di vista urbanistico se uno percorre il Martesana, il Martesana fra l'altro. Eh infatti ho scoperto questa cosa in questi giorni facendo... Il Naviglio. Questa è il Naviglio. Il Naviglio Martesana. Il Naviglio Martesana. Il Naviglio Martesana. E' maschile. E' in grado sostanzialmente attraverso i vari interventi partendo da Cassina dei POM di arrivare fin sull'Adda con la bicicletta. Eh sì. Il tratto milanese è un tratto che è stato oggetto fin dai primi anni del Novecento nella zona di Crescenzago. Ad esempio ci sono tutta una serie di ville storiche dove andavano a villeggiare i milanesi con un po' di denari. Eh sì. Nell'Ottocento. E ancora adesso è un tratto estremamente interessante. E allora Gianni, se volessimo definire Greco, che comune era Greco quando era un comune? Da cosa era caratterizzato? Era caratterizzato da due, come hai spiegato prima, da due parti separate dalla ferrovia. Uno che veniva chiamato... La ferrovia che arriva in che anni? Greco urbana era quella di là. E invece la greco, non agricola, rurale era quella di qua. Di là era un centro vitale. E qui invece era ancora un paese. Là era la città. E qui c'era un paese. Però intorno a questo paese, i miei libri riguardano esclusivamente questo paese. Perché qui abbiamo una vita di tutti i giorni, un incontro della gente, della scuola. Non è la città, è il paese. Come dobbiamo immaginarlo? Vedetelo con gli occhi di oggi. Oggi non si vede la situazione. Da di qua al di là della ferrovia è la stessa cosa. Urbanisti. Ormai casi ovunque. Macchina ovunque. Cemento ovunque. Come invece dobbiamo immaginarlo all'epoca? Questa divisione e questo greco? Con le poche case che c'erano. Erano tutti prati. Prati che servivano come agricoltura, come produzione di ortaggi per Milano. Questa è la specialità di greco. Di tutte queste aree a nord di Milano, nord-est di Milano, era produzione di ortaggi di orticoltura per il mercato di Milano. Così come il sud di Milano era produzione di formaggi. Tant'è vero che qui al nord abbiamo il burgo di Shigulat. Il burgo delle cipolle che sono in corso comodo lì. Perché qui producevamo le cipolle e tutto il resto. Sotto, in portanti cinesi, abbiamo il burgo dei formaggiati. I formaggiati dove producevano, perché da lì in giù, Lodi e Settecedere, erano tutte le campagne che producevano l'erba adatta per... Invece qui era... E' tutta a sud quell'area agricola che c'è anche oggi e che copre circa il 16% del territorio cittadino. E infatti Milano è il secondo comune agricolo d'Italia dopo Roma. Prima di spostarci, perché poi ci spostiamo in quella che adesso viene chiamata Piazza Greco, che si è sempre chiamata così, no? Come si chiamava? Sì, Piazza Greco. Sì, Piazza Greco. Prima di spostarci là, ti chiedo questo da storico. Come fu accolta l'annessione al comune di Milano dal comune di Greco? Allora, qui il comune in quanto tale ha avuto qualcosa da ridire, però in definitiva era nell'ordine delle cose che dovesse passare. In qualche maniera erano anche contenti di diventare cittadini. Però il comune, c'era il sindaco Mauri, quando ha versato la quota, cioè ha versato i documenti, ha versato anche una quota, che adesso non ricordo quale ma devo andare a vedere i documenti perché ce l'ho, di Totlire, sperando che il comune di Milano le impiegasse nel servizio, nel territorio, ciò che non si è verificato. Il comune di Greco milanese era inattivo, con l'aggregazione. Perché sappiamo che, lo ricordiamo, una delle ragioni che portarono alla nessione era anche, e per cui molti comuni erano anche d'accordo a farsi annettere, perché in realtà le casse di questi piccoli comuni in alcuni casi erano ormai vuote e quindi, insomma, meno male che veniva Milano a salvarci. Ma non tutti, il greco era uno di questi invece, stava bene. Il greco era un comune che aveva in buona salute, anche perché era diventato un comune molto grande, soprattutto per quella greco urbana che stava di là, che produceva, che aveva, no, la produzione era di qua, qui c'erano, gli orti si erano tramutati in officine, qui avevamo numerose officine, mentre di là c'erano negozi, servizi, c'era l'urbanizzazione. Tutti i borghi e tutti i paesi che nel mondo esistono hanno una cosa principale, che è la piazza, la piazza del paese in Italia, con la loro chiesa e ovviamente Greco non è da meno. E quindi proprio lì ci spostiamo e andiamo in piazza Greco a continuare il nostro viaggio all'interno di Greco. E lo sentite, siamo arrivati nella piazza principale di Greco, ci danno il benvenuto anche le campane, ci danno. Avete appena visto il rilevato ferroviario, la ferrovia che passa, che appunto è quella che un po' ha segnato anche il destino e il disegno di Greco, giusto? Certo, perfetto, giusto. E qui ci troviamo... A fette il territorio di Greco. A fette il territorio di Greco. E qui ci troviamo in piazza Greco, appunto, la piazza principale, come tutti i vari bordi, e come tutti i comuni, con la sua chiesa e tutto quello che ne derivava, giusto qua? Assolutamente. Una volta era il centro sostanzialmente di qualunque tipo di borgo dove in teoria c'erano affacciati i simboli del potere. C'era la chiesa, c'era il comune, c'era la farmacia. E' una delle poche piazze ancora strutturata come piazza, se la guardate. Eh sì, infatti è ancora così. Come appunto qualsiasi comune, come qualsiasi città aveva proprio il suo vero centro. E questo è importante per ripensare anche a cosa vuol dire adesso questo centenario, cosa vuol dire adesso questo tipo di struttura amministrativa anche. Il problema è che cento anni fa le amministrazioni territoriali vennero cancellate e quindi è nell'ordine delle cose organizzative che se la struttura organizzativa di un comune prevede un sindaco, una giunta, se il sindaco e la giunta stanno in piazza Greco, la loro priorità è piazza Greco ed intorni. Nel momento in cui invece sta a Palazzo Marino è nell'ordine delle cose che l'umano ha 24 ore e quindi che cosa fa? Prende e guarda piazza della Scala, piazza Duomo ed intorni. Questa è la logica. Quindi il problema fondamentale è esattamente quello di fare un ragionamento di restituzione ai territori delle amministrazioni in maniera tale che quelle amministrazioni locali che oggi abbiamo come municipi ma che sono vuoti di potere possono invece agire sul territorio naturalmente in coordinamento con il comune di Milano perché qui non si tratta di spacchettare, fare nuovi comuni o cose di questo genere ma si tratta di organizzare, imparando ad organizzare perché oggi non è così, quella che è una città complessa di una metropoli seppur piccola come Milano. Ecco, dopodiché vorrei capire su che fiusorario è il campanile che sta suonando una 42 rintocchi ma va bene, non so, è una sorta di mezzogiorno lunghissimo, fa tutti i nove municipi evidentemente. No, vedevo che annuiva però a quello che diceva Walter. Sì, perché questa è una novità, piacevole novità, quello di pensare a restituire alle varie località il comune, cioè una specie di comune, una forma di comune, un'amministrazione separata. Ora, adesso quello che erano le zone, ora i municipi, non servono a un tubo, non hanno i poteri e quindi che cosa sono da fare? Un comune di 160.000 abitanti, il municipio, la zona 2, il comune di zona 2 Barzelletti, cancella tutto qui che mi fanno. Il municipio di zona 2 sono? 166.000 abitanti, quindi è una città più grande di Monza. Dopodiché Greco, già nel 23 quando venne appunto negata, 25.000 abitanti, tantissimo. Certo, seppure diviso in due, però insomma era un comune di 25.000 abitanti. Pensare di tornare ad un comune che abbia un'amministrazione, è giustificato avere un'amministrazione con 25, attualmente poi saranno 50.000 abitanti, quindi è giustificato avere un comune, un'amministrazione se non proprio comune, un'amministrazione indipendente, che dipenda dal centrale è fuori dubbio, però è separata, autonoma per certi aspetti è indispensabile. Forse è così che si può risolvere i problemi. Marco, è così nel senso, si sente un po' questa distanza da Palazzo Marino, si sente un po' la mancanza anche magari di un interlocutore amministrativo un po' più forte. Noi vogliamo bene nell'anima i municipi, lo sapete tanto quanto vogliamo bene i municipi, ma che insomma sono un po'. Non è tanto quello, è che gioco forza, come diceva prima Walter, se devi amministrare una città di un milione di abitanti è ovvio che, come dire, disperdi tutta una serie di cose, perché sono tanti. Il problema dei municipi è che hanno in questo momento poca capacità di spesa, cioè essendo l'elemento dell'amministrazione che è più vicino al territorio, più vicino ai cittadini, bisognerebbe studiare un meccanismo che pur mantenendo la struttura a livello di Palazzo Marino, voglio dire, non è che uno dice qualcosa di diverso, però sia in grado di dare competenze e risorse ai municipi in maniera che siano in grado di fare tutta una serie di cose avendo il polso del territorio perché ci vivi. Questa è la realtà. E non è fantascienza, no Walter, appunto dicevo, non è fantascienza questa, è una richiesta che si può davvero attuare in qualche maniera. Allora, c'è anche da tradurre i numeri alcune volte. Allora, quanto fa il bilancio del Comune di Milano dove ciascuno di noi qualche tassa la paga, eccetera? Normalmente non lo sa nessuno, comunque valgono circa 3.000 milioni di euro anno le spese ordinarie. I municipi, i municipi, i 9 municipi di questi 3.000 milioni di euro l'anno, quant'è il loro appannaggio? Poi non entriamo del merito alle spese fisse, quelle che si possono scegliere, sono un totale di 9 milioni, cioè noi andiamo il rapporto è 3 per 1.000, i 9 municipi rispetto al Comune di Milano pesano il 3 per 1.000, ma oltre il tema del danaro c'è anche il tema dell'organizzazione delle attività, cioè noi sui territori abbiamo decine di servizi comunali, abbiamo circa per ogni zona un migliaio di dipendenti comunali che possono andare da gli agenti di polizia locale, addirittura le guardie ecologiche volontarie, i servizi, gli asili, le scuole materne, di tutto di più. Ecco, il problema è che non c'è un governo complessivo, perché l'organizzazione, come dice anche il professor Balducci, già prorettore del Politecnico di Milano ed è stato anche per un periodo assessore del Comune di Milano, è organizzato per competenze separate, per piante organiche, cioè invece quello che ha bisogno il territorio è che ci sia una gestione complessiva delle cose, altrimenti noi mettiamo una pezza da una parte e c'è il buco dall'altra. Questo è un ragionamento organizzativo di qualsiasi organizzazione, dalle aziende e quant'altro che hanno adottato e che il Comune di Milano, anche meglio la realtà pubblica, dovrebbe imparare, perché non può rimanere a strutture organizzative di cent'anni fa, si deve un attimino aggiornare, anche perché in questo territorio periferico dei comuni che vennero aggregati appunto nel 1923, allora ci abitavano 123 mila abitanti, oggi ce ne abitano circa 860 mila. Il Comune di Milano originario, diciamo quello dell'Unità d'Italia o meglio quello del 1872-73 valeva 199 mila abitanti il centro, oggi in centro abitano meno di 100 mila abitanti, quindi se stiamo proprio agli abitanti e basta, il centro si è dimezzato come residenti, invece il territorio periferico si è quasi decubblicato, ecco, allora è cambiato qualcosa, ma il criterio organizzativo è rimasto sempre quello. Ricordiamo, oltretutto, che parlando invece di percentuali, praticamente l'80% della città è quella che noi definiamo periferia, insomma, forse sarebbe da ragionarla dopo la circonvallazione 991. Amici della Martesana Greco, cosa fate, cosa combinate appunto in quel di Greco e come possiamo fare per magari avere qualche informazione in più sulle vostre attività? Beh, Amici della Martesana Greco ormai c'è da più di 20 anni, sostanzialmente nasce per la tutela del territorio, cioè nel senso che si cerca di aumentare la presenza sul territorio, perché un territorio sguarnito è un territorio a rischio, banalmente, anche solo organizzare come facciamo da, credo, 18 anni se non mi sbaglio, il mercatino dell'antiquariato tutte le domeniche lungo il Martesana, vuol dire presidiare il territorio, vuol dire che se ci sei tu hai sotto controllo quello che accade, contribuisci a dare una pulita, ma l'importante è la presenza e così via, tutta una serie di altre iniziative culturali che servono a mantenere anche qui una memoria storica. Dove possiamo trovare appunto magari queste iniziative? Beh, allora, ci sono dei siti, c'è una pagina su Facebook, partecipiamo alle iniziative della consulta della periferia che trovate sul sito periferiaartme.it e lì ci sono tutta una serie di informazioni per raggiungerci, per poter chiedere anche informazioni e collaborare. Amici della Martesana Greco. Amici della Martesana Greco. Perfetto. Prima di salutarci invece, qua a nostre spalle c'è la chiesa appunto del Piazza di Greco, lungo la Cancellata c'è un'importante mostra che da storico sicuramente puoi raccontarci un attimo. La mostra è stata voluta e realizzata dall'ex circolo Perini, attualmente Fondazione Perini, la quale utilizzando i personaggi locali ha realizzato questa mostra del centenario facendo la storia dei vari borghi, dei quattro borghi che costituivano Greco e con 20 pannelli meravigliosi fatti con illustrazioni fotografiche e storiche e lì da vedere. Insomma, è una novità assoluta per Greco che al momento, a dire la verità, non ha ancora colpito la gente. Dobbiamo farla quindi, venite appunto a vederla in modo che, perché dacci un dato, un qualcosa che ti ha colpito della storia di Greco che ti piacerebbe sempre ricordare, cioè quella cosa che non si può andare via da Greco senza saperla. Eh beh, ce ne sono diversi. Prima di tutto sarebbe il numero uno, la chiesa parrocchiale, una chiesina a Segnano con affreschi del 600 stupendi che vanno recuperati perché stanno degradando, il naviglio della Martesana. Di fronte al naviglio c'è la palazzina dei Deleiva e della monaca di Monza, questo l'abbiamo scoperto qualche anno fa. Dovevano chiamare la monaca di Greco allora? Era la monaca di Monza, stava lì di casa. Dovevano cambiargli il nome allora, adesso siamo in questo periodo in cui si può rivedere un po' i classici, vediamo di far cambiare il nome alla monaca di Monza e la facciamo chiamare la monaca di Greco, va bene. E poi c'è la realtà di là della Greco urbana che è tutta un'altra cosa, attualmente però essendo nata intorno ai primi anni del Novecento, da fine Ottocento ai 20-30 anni del Novecento ormai sta subendo però recuperando le palazzine che sono liberti e sono messe in bella evidenza presenta ancora degli aspetti interessanti, carini, belli. Chiarissimo, grazie mille Gianni, allora voi andiamo a vedere la vostra. Quello che manca è la viabilità perché le strade sono piccole, sono strette, sono invate dalle macchine, posteggio. Il problema numero uno sarebbe la presenza delle macchine. Il problema numero uno, come diceva il famoso film, è il traffico come diceva appunto il famoso Gianni Stecchino. Traffico e posteggi. Grazie mille allora davvero allo storico di Greco Gianni Banfi, grazie mille davvero. Grazie anche a te Marco. Figurati grazie anche a voi. Amici di Martesana Greco e Walter, noi ci rivediamo in un altro comune, giusto? Esattamente, un altro comune, non borgo, ma comune perché aveva l'amministrazione con il suo sindaco. Ok, i borghi sono quelli che troviamo così in giro per il mondo, in giro per la Toscana, belli, tutto, ma questo era un comune proprio proprio, poi è diventato un borgo, ma 25.000 abitanti, non è un comune. Come si direbbe adesso, ciumbia, veramente tanti. Grazie mille a tutti, ci vediamo nel prossimo comune e nella prossima puntata di Focus Periferia. A presto!